L'improzione da South Park! Più forte, più forte. La città non era più la stessa. E' accaduto tutto così in fretta. Tutto è andato bene. E' come se il senso della morale di tutti fosse scomparso. La crisi economica peggiorò ancora di più di cose. Sono saltati i posti di lavoro, molti negozi erano dovuti chiudere. Poi un uomo di colore è stato il metto presidente. Avrebbe dovuto cambiare le cose, non l'ha fatto. Sempre più persone si sono date al crimine e alla violenza. La città era stretta in una mossa di paura. Sono tempi bui. Alla città serve protezione. C'è un animale che vive di morte. Fungo a libido odini, ripudisce la rimondizia. Per eliminare gli scatti della società, ho scelto di essere più uomini. Sono un eroe di cui questa città bisogna. Io sono il tracione. Da quando il mondo è fiombato nella disperazione, il procione combatte per ripristinare l'ordine. L'oscuro signore Cthulhu continua la sua organizzazione di massacri e di terrore. Per l'umanità sembra non esserci speranza. E ha appena raggiunto un presunto membro della squadra di Cthulhu, il procione. Non esiste solo Cthulhu, infatti lui è una piccola parte dei, il procione e i suoi amici. Continuiamo a lottare per il bene e la giustizia. Per il bene e la giustizia? Ma Justin Vila e molti dei suoi fan sono appena stati massacrati. Sì, siamo felici di essere stati d'aiuto. E davvero non serve ringraziarci. Non vogliamo ricompense, vogliamo solo una cosa. Comprate la nostra baglietta a 14 dollari e 95. Allora, risassiamo il nostro super procione. Non scappare.